Cari telespettatrici e telespettatori di Tele4, un annuncio importantissimo, ormai l'avete capito, sono i giorni dello switch off, quindi tutte le televisioni locali e nazionali in questi giorni stanno transitando verso il nuovo digitale terrestre. Potrebbe verificarsi un problema per voi e lo vediamo in questo video che ci ha inviato più di qualche telespettatore, cioè alla posizione 10, che è quella affidata a Tele4, potrebbe comparire un'altra televisione, vediamola pure a pieno schermo. E in particolar modo una televisione slovena, perché hanno i ripetitori girati verso Trieste ma non possono in alcuna maniera occupare la posizione che è di Tele4, cioè il 10 del vostro telecomando, perché televisione leader in Friuli, Venezia, Giulia. Quindi fate molta attenzione. Come trovare la soluzione a questo problema? Con il vostro telecomando, premete il tasto menu e fate la sintonizzazione automatica. Se il televisore dovesse proporvi una scelta, quindi tra Tele4 e un altro canale, appunto magari sloveno, voi dovete selezionare manualmente Tele4, perché la posizione 10 è e resterà di Tele4. Se avete qualche problema, scriveteci alla mail tele4in numero chiocciola tele4inparola.it. Grazie.